buongiorno ciao buongiorno allora ditemi il vostro nome e il vostro ruolo per favore allora io sono sofia sono della squadra firenze 5 e il mio ruolo preferito è l'attaccante grazie grazie ciao io sono matilda il mio ruolo preferito è battere ciao io sono laura e a me piace ricevere e attaccare ciao io sono adele il mio ruolo preferito è attaccare ciao io sono mariam ma è il mio ruolo preferito a ricevere ciao io sono maya e non il ruolo preferito a divider to Ciao, sono Siria, mi piace, il mio ruolo preferito è battere e attaccare Ciao, sono Benedetta e il mio ruolo preferito è palleggiare e chiacciare Di che squadra siete ragazze? Firenze 5 Firenze 5, ti siete divertite? Sì Bene, allora ragazze, tra poco c'è la premiazione, questo è un video tutto per voi Io vi ringrazio e come si suol dire, forza Wisp! Grazie